Domenica 26 maggio si voterà per le europee. Il Parlamento che ha sede a Strasbourg è composto da 751 deputati, compresi il Presidente. Il numero di eurodeputati per ogni paese è approssimativamente proporzionale alla popolazione. In conseguenza della Brexit, il numero dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia è stato aumentato da 73 a 76. Domenica l'Italia dunque dovrà eleggerne 76, soltanto 73 dei quali però si insedieranno subito. I restanti tre, come ha reso noto la Corte di Cassazione, potranno farlo solo dopo che il recesso del Regno Unito sarà divenuto giuridicamente efficace. Sono 51.073.042 gli elettori per le europee, di cui 24.744.762 uomini e 26.328.280 donne, che voteranno dalle ore 7 alle 23 in 62.047 sezioni elettorali. Il territorio è diviso in cinque circoscrizioni, la quinta insulare comprende le regioni di Sicilia e Sardegna, con otto candidati per ciascuna delle 15 liste presentate. L'elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene. L'elettore può anche esprimere voti di preferenza fino ad un massimo di tre. Nel caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Viceversa, se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista.